ragazzi e ragazze bentornati ci troviamo di nuovo qui su forse di manager 2022 con la nostra carriera con felice scalapassi ritorniamo dopo un giro d'italia che comunque anche a detta vostra non è stato proprio così condotto male dal nostro felice ricordiamo miglia di miglior giovane un paio di buoni piazzamenti un bel po di punti diciamo si è fatto vedere nostro felice il problema di avere una squadra un po deficitaria l'ha un po troncato però sicuramente come prima come primo gran tour e giro è insomma un gran tour abbastanza importante non ha fatto male insomma non è andato a sfigurare il nostro felice scalapassi prima di andare avanti ragazzi vi ricordo di lasciare come al solito un bel like al video supportiamo alla serie un bel l'iscrizione al canale belle sezione al canale se volete supportare questo povero scemo e la campanellina che vi se mi può sempre aiutare perché vi dà notifiche ogni qual volta uscirà un nuovo video ora siamo appunto usciti dal giro d'italia siamo diventati una star quello che ci dice ovviamente il gioco a livello di reputazione quindi ci conoscono in tutto il mondo e ovviamente questo si riflette anche sui contatti come vedete la ua e ci sta puntando molto 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 bene l'anno prossimo con trentin e combagi li potremmo formare un ottimo trio italiano lì alla ua e tenendo conto che tadei potrebbe non essere dei nostri perché in scadenza di contratto quindi magari l'ua e preferisce puntare sul nuovo giovane rampante del ciclismo mondiale che è il nostro felice piuttosto che restare con tadei che comunque una certezza a proposito di tadei tour de swiss giro di svizzera composto da otto tappe se non ricordo male esattamente sono otto tappe di cui nessun arrivo in pianura quindi molto bene saranno tutti movimentati tralasciando le due crono che ne andrò a vedere vedete qua l'arrivo alla ken è comunque con una piccola salita verso la fine idem la riva ma la fnau in e compatate addirittura la riva in discesa stud poi ce l'arrivo in salita va che ci sono c'è l'ultimo tratto diciamo di un paio di salite di mini muri alle scele ben poi un altro arrivo questa in salita che se non credo che sia molto complicato a livello di pendenze a disenti se drone poi la crono che vedremo dopo e l'ultimo arrivo che ad under mat è un circuito di 120 chilometri con una salita è giusto giusto pianeggiante all'arrivo ma saranno forse gli ultimi due chilometri tre chilometri non credo di più il grande problema questa è una conformazione che a scala passi non dispiace il grande problema sono essenzialmente due le crono purtroppo lo sappiamo nostro felice ha un difetto e il prossimo livello noi siamo arrivati livello 18 con l'ultimo passaggio del mese con l'ultimo allenamento del mese dovremo lavorare molto per arrivare a livello 19 che sarà il nuovo step e io punterò mi dovrò forzare a non guardare troppo le statistiche a puntare sul valore di crono perché qui la crono prologo di 10 km ancora ancora ma questa è una crono di 23 chilometri dato con una pendenza iniziale non dico importante ma insomma sostenuta per essere una crono taglierà le gambe e le possibilità di riuscita di questa di questo giro di svizzera non puntiamo alla vittoria del giro magari a fare dei buoni piazzamenti perché non la vittoria di tappa è comunque la categoria world tour ci troviamo di fronte un certo tipo di personaggi ganna e con gas di misse che avvene per il cittadini roglice quindi insomma abbiamo un estratto di tour de france in questo giro di svizzera lo andremo a vivere insieme ovviamente a lo viviamo insieme tutto perché il giro di vizio non l'abbiamo mai visto io non l'ho mai corso l'anno scorso ovviamente con il nostro super fortunato di pigno però ovviamente non vediamo tutte le tappe vedremo giusto gli arrivi io ve lo dico correrò questa crono perché la con il corpologo di 10 km di breve ma questa di 23 chilometri l'andrò a come si dice simulare rapidamente più che altro perché non ho pretese di classifica non riuscirai comunque a vincere non abbiamo pipino che può vincere una con quindi portarsi a casa una tappa vabbè vedremo invece gli arrivi gli ultimi chilometri di tutte le tappe cercherò di non perdere altro tempo perché siamo già più di cinque minuti dentro nel video quindi vediamo giusto giusto l'arrivo di questa crono a frauenfield frauenfeld scusate il mio le mie riminiscenze di tedesco sono molto lontane nel tempo ok ci vediamo la ragazzi eccoci qui ragazzi ci gustiamo gli ultimi chilometri valente gli ultimi quattro quasi all'arrivo ovviamente non abbiamo nessun tipo di potenza guardate la in nominata a destra parlano da soli siamo partiti comunque quasi per centesimi quindi abbiamo visto passare un po tutti ultimo chilometro proviamo a spingere il nostro felice a 99 per massimizzare il guadagno di tempo aveva un po cortini arriviamo con 42 secondi di ritardo questo è il valore del nostro felice rimontato quasi sotto da chi era quel ragazzo è passato niente non ho visto questo è il livello come vi dicevo purtroppo bisogna lavorare ancora tanto 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 perché nei grandi giri le crono ci sono e non possiamo far finta di nulla dobbiamo saperci difendere non vincerle ma difenderci sì è per questo che come detto ormai tante volte dovevo fare il pass il livello prossimo in crono per forza detto questo ragazzi ci vediamo all'arrivo della seconda tappa eccoci qui ragazzi siamo agli ultimi otto chilometri siamo per arrivare all'ultima grande grande l'ultimo piccolo diciamo muro all'istrasse abbiamo preso qualche punto della campione della montagna mcnalti eg erano andati a scattare per andare a vincere attenzione cus sta provando ad andare proviamo ad andare anche con lui mi sembra che con lei esatto prova a dare il gelino ea lanciare a 95 milesi voglio che mi spinga quanto più possibile vicino alla vetta ok milesi è andato la dobbiamo andare noi ragazzi dobbiamo andare noi provando a dare uno strappo magari qui vediamo se riuscendo riusciamo riusciamo a dare uno stop insieme a sacman ea provare a fare la pazzia prendiamo il gelino prendiamo gelino passiamo come primi prendiamo un sacco di un sacco un po di punti della prima della montagna siamo secondi quando si vede perché va un po in conflitto vediamo un attimo come ci regoliamo qui perché siamo la discesa finale siamo da soli con e bene per il brutto cliente remco brutto cliente anche sacman in realtà siamo siamo gli sfavoriti qui proviamo a metterci in coda renko mettiamoci in coda renko ma in realtà arrivano tutti gli altri quindi forse conviene lanciarsi ora vediamo dove riusciamo ad arrivare e riusciamo a stare anche davanti a renko che un po mollaria it davanti a bernaldi poco decimi quindi capito e ita bernal po gaccia roglic mcnalti vabbè boom ma vabbè ci abbiamo poggiare approvato abbiamo preso un po di punti nell'ultimo la prima della montagna non mi è dispiaciuto siamo secondi in questa classifica bene però come vedete la concorrenza è leggermente spietata andiamo alla prossima tappa va ok ragazzi siamo a sei chilometri dall'arrivo siamo col gruppo dei migliori che hanno attaccato più e più volte noi siamo riusciti a rimanerci diciamo un po vabbè a seguirlo con non con poca difficoltà vedete quanto siamo messi male a livello di fatica stiamo seguendo primos roglic abbandoniamo un attimo l'ingaggio su primos perché non è non è del nostro livello c'è molto più molto più avanti di bravura e possiamo farci veramente poco però a questo punto io lo seguirei fino all'arrivo proviamo a lanciarci in scatto ma ovviamente non possiamo fare nulla vince j in lei molto bene davanti a tadei e sonico brelli e jonas vinger guarda che tra tutti c'è pure lui noi arriviamo a una decente diciottesima posizione stiamo arrivando con i migliori non ci stiamo facendo staccare io credo che sia già un avanzamento rispetto a delle delle tappe precedenti delle gare precedenti quindi proseguiamo in questa direzione e andiamo avanti ragazzi prossima tappa ragazzi prendo la linea dieci chilometri dall'arrivo un po prima di quanto previsto perché sulla salita di sei mesi purtroppo il nostro felice crolla il nostro felice crolla il ritmo imposto da raccani da milesi che sono stati di con lui fino adesso è stato troppo importante e guardatelo qua guardatelo qua come va giù o mamma mia o mamma mia va giù felice va giù felice deve resistere ma non resisterà non ce la farà che strano non capisco come mai non è riuscito a rimanere lì con con gli altri peccato perché dovremmo essere davanti in questo momento per essere un minimo pericolosi purtroppo prima che la posizione aerodinamica ma ragazzi qui c'è da pagare lo scotto del meno due e della fatica del giro d'italia prima o poi doveva farsi presente ovviamente qua non riusciamo a fare nulla vince sebastia molano infatti un vincitore c'è un po outsider tra molte virgolette davanti al solito hater a coccarda trentina bernal eccetera 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 non siamo riusciti a reagire siamo arrivati io credo tutti insieme quindi con la buono diciamo con l'azzeramento dei vantaggi peccato perché arrivate alla metà di questo di questo giro di svizzera adesso non ritrovo mai la faccia talmente piccola questo gioco mannaggia loro purtroppo in questo questo giro di svizzera stiamo facendo un po fatica a livello di preparazione perché noi in realtà come detto non stiamo puntando a fare chissà che in questo giro vediamo se siamo arrivati tutti insieme se assolutamente sì quindi rimaniamo ancorate al 23 della posizione a solo 54 secondi dal leader questo però ci non ci fa guadagnare punti perché c'è che se deve essere primi 10 siamo ventitresimi colpa della crono e la prossima cono ci distruggerà il problema è che la frescazza è buona non è ottima iniziamo un po accusare la fatica e ci stiamo preparando in realtà per questo momento per i campionati italiani a firenze li puntiamo a fare ottimi ottimi se non super ottimi risultati senza snobbare il giro di svizzera comunque è un world tour quindi non va snobbato ovviamente però sarà un po faticoso per non riuscire a fare bene la prossima tappa di montagna ma se tanto mi dà tanto qui all'arrivo alle sle ben sarà molto difficile arrivare bene ragazzi non rimane che guardarci la tappa arrivare e vedere in fondo allora se tutto va bene mi ricollegherò pochi chilometri dall'arrivo e vedremo l'ultima discesina col relativo piccola salita arrivo finale probabilmente mi collegherò forse prima per dare conto e noto nota del crollo di scalapassi di felice probabilmente sull'ultima salita probabilmente qui faremo molta fatica a restare con i migliori intendo e con i migliori con i migliori forse qua maybe why not vediamo vediamo se riusciamo ragazzi prossima tappa ragazzi prendo contatto con voi a 7 chilometri dall'arrivo c'è stato un cambio per voi sono passati solo uno due secondi per me molte ore nella giornata scalapassi purtroppo ha provato nuovamente a tenere anzi a rispondere a un attacco che è stato portato da evan e pearl col brelli e anche qualcun altro forse anche mass che è tornato indietro non siamo riusciti a rispondere prontamente loro sono andati via volete bernal e thames proveranno a riportarsi sotto noi siamo scoppiati signori è ufficiale non è un giro per felice purtroppo ci ha provato fino in fondo provando a non farli andare via però ragazzi niente non sono chissà quanto più lontani però sono lontani sono il gota del ciclismo non lo siamo ancora noi purtroppo purtroppo non lo siamo ancora proviamo andare all'attacco per provare a raggiungere gli altri proviamo a spingerci a 99 con uno scatto vediamo che recuperiamo anche col brelli non bowman attacco bobo man arrivava davanti col brelli che era stato davanti a noi per un po diciassettesimo primo degli italiani tra l'altro proprio davanti a sony bernal roglic pogacar roglic pogacar vinger guard questi tre questo trio questo quattro questo quartetto è fenomenale di nomi di grandi giri di grandi tappe di monumenti di classi che c'è alzo le mani mi davano tra i primi cinque mi chiedevano di arrivare no ragazzi forse ma avrei dovuto superare rin come bene per il in lei già che i che sono ancora troppo lontani per noi prossima tappa ragazzi prendo collegamento a 33 chilometri dalla fine di questa che è la tappa numero 6 di otto distances cedro nell'arrivo la partenza da fish e ragazzi siamo già con scoppiati guardate siamo già dietro e già dati ci sono mcnalti bernal vi faccio vedere guardate la differenza noi siamo scoppiati bernal ancora un piccettino di fatica pogacar c'è ancora e venne per sta per colare anche lui eric mass è colato in questo momento dovrebbe esserci davanti un certo jonas tra l'altro che qua non vedo anche la ving e guard allora noi siamo scoppiati il chilometro scorso adesso adesso vedete che siamo per finire anche la barra rossa quindi non siamo lontanissimi da loro in termini di prestazioni assolute però siamo ancora lontani è fatto sa che siamo ancora lontani purtroppo siamo qui abbiamo solo ottenuto un secondo posto questo capito nella montagna aveva provato a puntare la maglia a questo punto di video scalatore ma siamo solo secondi quindi non riusciamo non riusciamo a fare bene ci teniamo comunque la distanza di 20 secondi non di più perché stanno probabilmente tirando anche loro fiato in questo momento infatti vediamo se con un'incursione felina riesco a beccare un terzo posto che però vedete ci mette a pari merito di gran bernal e fine e fine viviamo questi ultimi chilometri insieme ragazzi giusto perché la prossima tappa l'assaltiamo perché è una crono e la corona da 23 chilometri a questo punto ragazzi io la simulo mano sul cuore la simulo vediamo cosa riusciamo a fare qui recuperiamo un po di fatica fortunatamente non c'è bisogno di attaccare bernal invece si sta provando anche con poca c'è che gli va un prova andando un po a ruota poi la c'è che è il leader della corsa ed era della giro di svizzera fino ad ora noi stiamo una modesta diciottesima posizione a due minuti dal leader terzi a due minuti da non ricordo chi sia il primo della classifica giovani non andrà a vedere dopo vediamo ora questo era per la montagna come il nostro felice si comporta noi non possiamo attaccare dobbiamo agire di furbizia e ciò cosa vuol dire seguire gli altri se qualcuno attacca e a prendere l'acqua che non ce la fa più prendere molto bene molto bene il tasto è inibito il mio mi sono distratto un attimo e qua sono partiti subito niente quindi mi tocca andare io in manuale jonas venga è rimasto un po indietro perché a prima della montagna riusciamo a ottenere una quarta posizione inutile altro assolutamente inutile bene dato quando avano i punti fino a primi i primi tre di bene vediamo qui come si propongono è vedete come tutti si studiano noi prendiamo il gelino mancano cinque chilometri dall'arrivo ieri se vene poi prova l'attacco noi non abbiamo più forze vedete non abbiamo più forze come mass come anche anche bernard è scoppiato ragazzi comunque anche gli altri scoppiano proviamo a stare lì con gamber nal vediamo se non riusciamo nemmeno a stare con lui e concludiamo dodicesimi dodicesimi sempre dietro agli altri abbiamo addirittura staccato tra dei pogaccia che attenzione tadei jonas vigagard ha fatto un tappole clamoroso vince e mette in serio pericolo la maglia di leader di tadei pogaccia attenzione attenzione bravissimo milesi ventesima posizione bravo 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 nostro compagno di squadra top di gamma top di gamma quindi io direi che ci vediamo all'ultima tappa e vediamo com'è andata ragazzi perché questo giro di svizzera ci ha fatto capire qualcosa poi facciamo un recap finale ok ragazzi vi ricollego a 25 chilometri dall'arrivo sì signori state vedendo uno scalapassi che in fuga dal chilometro zero siamo andati in fuga dal chilometro zero perché mi sono detto se dobbiamo fare qualcosa almeno facciamola fatta bene abbiamo vinto il gran premio della montagna la cima coppi la prima qui a fur pass arrivati terzi a gizem pass arrivati primi ancora al susten pass siamo primi con un distacco atomico possiamo anche permetterci di non vincere diciamo l'arrivo di andermatt che poi ci sarà l'arrivo tre chilometri più avanti chissà 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 cosa riusciremo a fare abbiamo il gruppone importante a meno di un minuto dietro purtroppo aveva perso cioè i nostri compagni di squadra non sono riusciti a restare nel gruppo importante noi con bardè van evelt van etvelt scusatemi e tibopino siamo riusciti a gestire un'ottima situazione qui proviamo a prendere no niente qualche buono just in case io non si può mai sapere prendiamo qualche buono punticino random secondi perché no e ora c'è un attacco dire che viene per la che probabilmente vorrà arrivare appresso a noi perché mancano solo nove chilometri a secoli qua eccoli quanti auta dei che va avanti tra dei ragazzi guardate la differenza è tanto tanto più grande proviamo a restare attaccato attaccato questo gruppo di gente che se vogliamo seguire dobbiamo fare segui di chissà non me lo fa fare perché non me lo va vale giustamente c'era un motivo che se ha fermato lì vediamo se riesco a portarmi sotto di quelli stando a con sforzo 85 riusciamo a riportarci sotto si assolutamente molto importante questa cosa vediamo perché qui ci giochiamo ragazzi ci giochiamo all'arrivo l'arrivo ad under matt secondo me ce lo giochiamo bene mancano 5 chilometri due e mezzo all'arrivo del campo della montagna questa tappa ce la giochiamo fino in fondo e sono contento di vedere uno scalapassi così non abbiamo preso l'acqua e non ci danno la possibilità di prendere ormai manca poco il gel l'ho già preso prima per resistere qui nel tratto più impegnativo in cui felice è andato un po in difficoltà poi si è ripreso ora vediamo cosa riusciamo a fare qua dobbiamo mangiare un po la posizione andiamo in scatto non ci serve più di tanto andiamo dietro e ora seguiamo egan bernal no pino pino bernalich inchiodato il bernalichio dato vediamo cosa facciamo a fare vediamo vediamo felice 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 non ce la fa di poco felice ma no manca ancora manca no oh mio dio no non è l'arrivo questo non è l'arrivo signori è quello l'arrivo dai felice dai felice non ce la fa si inchioda l'ultimo tadei bard e bernal e felice mi sono fatto fregare cosa cos'era o no era questo forse no sembrava l'arrivo o mio dio bravo comunque sta giro felice ci ha dato dentro ha fatto il possibile bravo 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 io ragazzi faccio un taglionetto e ci vediamo all'arrivo alle alle classifiche diciamo generali eccoci qua ragazzi siamo arrivati alla fine di questo giro di svizzera in crescendo chiari scuri per il nostro felice ha finito molto bene perché nella globale è arrivato ottavo ci chiedevano i primi cinque posizioni abbiamo fatto l'impossibile tenendo ben presente che abbiamo preso mi sembra un altro minuto e mezzo di ritardo con la crono di 25 chilometri siamo arrivati ottavi anche nella classifica punti ci interessava poco però stravinciamo grazie all'ultima tappa e a qualche gran primo della montagna vinto qua e là durante la con durante il giro la classifica scalatori e arriviamo secondi dietro soltanto a renko e bene nella classifica giovani grande avversario renko per il prossimo anno perché poi andrà 25 uscirà da questa specialissima classifica e lo abbiamo messo dietro anche maurie van seven and che brato 25 ancora un altro anno allora la zappa così così meglio del team dsm quindi va bene direi che va bene vince un jonas vingegaard di soli sette secondi davanti a egan bernal di soli 14 davanti a tada ipoca c'era quindi questo trio delle meraviglie spaziale arriva davanti a noi con renko bene per a un minuto jack haig a due minuti e 15 j indri a due minuti e 40 tivo pino a 342 noi a 408 primo degli italiani messi direttamente molto molto bene ora prendiamo i punti perché abbiamo fatto comunque la fuga in una sia world tour questo ci ripaga di tutti i punti non abbiamo preso perché ci chiedevano di arrivare in un tot di posizioni la crono ci ha tagliato tantissimo le gambe e quindi nada punti quattro avete non si gliccia come l'ha fatto durante il giro d'italia ed eravamo andati molto basso come soddisfazione manager eravamo quasi a 70 per cento abbiamo recuperato quasi 20 punti quindi una valutazione buona perché hanno l'obiettivo da tre primi dieci sono atti ottavi quindi perfetto tappa tra i primi cinque serati quarti perfetto la fuga eccezionale e il primo la prima la classifica scalatore vinta seconda posizione giovani ha fatto molto piacere quindi altri 55 punti molto 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 bene ora quello che volevo dirvi è questo siamo arrivati con il nostro felice a 21 anni livello 18 stagione 3 che non siamo ancora in grado di attaccare direttamente questa gente qui però la possiamo dire la nostra assolutamente sì anche le tappe precedenti anche il giro d'italia ci avevano insegnato questo che probabilmente l'anno prossimo quando riusciamo a fare quello step in più nella crono e non avevo più quella quel proprio taglio netto della crono che non ci permette di fare quello che vorremmo mi potremo battere anche con loro quindi sono comunque soddisfatto la soddisfazione arriva a gran parte di questa ultima tappa perché devo dire la verità fino alla tappa precedente un po era un tour di svizzera più scuro che chiaro per quanto mi riguarda cosa ci dice calendario nel futuro ci dice che ci vedremo non tanto per la corsa alla crono a bassano del grappa con la riva cittadella per la coppa per la campionato nazionale ma il grande obiettivo di felice scala classi scala passi è quello di arrivare primo a firenze luogo nel quale si andrà a correre il campionato nazionale io ho un sogno quello di raggiungere ciò che non sono riuscito a fare con il nostro tanto amato caro fabio pipigno vincere l'unica maglia assurdo per quanto è ma è vero così l'unica maglia insieme a quella di campione del mondo e campione europeo che effettivamente vivino aveva che ci mancava c'è quella di campione italiano su strada non a crono della prova in linea e puntare nel lungo periodo come long shot anche le maglie di campione europeo mondiale perché no dato che ora nelle crono facciamo pena facciamo un po meno pena in altri settori quindi noi ragazzi ci vediamo nei prossimi episodi nel prossimo sicuramente un episodio dedicato ai 270 chilometri mannaggia a loro nella tappa di firenze della tappa della corsa a firenze poi il giro di svini d'austria penso non ve lo farò vedere e dovevo vedere perché poi c'è la volta burgos l'artic race of norway che è un piattume clamoroso qua il dolce anti il giro del frioli e poi il lobbardia perché questa questa ragazzi questo monumento l'ultima della stagione io la metto nel mirino e non la tolgo più vediamo nei prossimi episodi ragazzi qualcosa deciderò di farvi vedere io ne fa tempo vi ringrazio per aver seguito fin qui per aver seguito felice scavaparsi nella sua carriera al terzo anno così tanti come sempre quindi vi ricordo se non l'avete ancora fatto di lasciare quel bel pollicione in su ed iscrivervi al canale ragazzi super importante io sono ancora qui vi aspetterò qui nei prossimi video con felice e possa che il manager 2022 alla prossima ragazzi